Basta, l'acciaio era importante per voi, a noi è cosa dovete, di colleghi e di cittadini. La città che riconosce per gli operai senza vita, gli operai non devono sopravvivere, gli operai dell'ilba devono vivere a Taranto e devono avere un futuro a Taranto. Noi siamo stanchi di quelle stanze dove loro si chiudono e decidono il futuro di questa città e dei lavoratori dell'ilba, il tempo è scaduto, chi ha usurpato questa città si deve assumere le responsabilità, se il gruppo IVA vuole continuare a restare in questa città lo deve dimostrare con i patti. Noi non vorremmo che ci fosse un ennesimo schiaffo alla città di Taranto, facendo un decreto legge come è successo già da Cerva e permettendo all'ilba di continuare a fare i porci comodi e propri, senza investire nemmeno una lida, per mettere al nome all'impianto. Questo non lo accetteremo.